dicono che è esploso il compito di vernici no, no, la connessione non a sto giro, a sto giro la connessione non puoi usare i 4 giri del telefono che è forse più veloce non devi stare a queste idee che dopo è un disastro quindi si stava dicendo prova a vedere, c'era un posto che ti diceva le clipper che le faceva eh sì, è in urbani ed è in cantiere navale ma se tu provi a cliccare esatto, su quello in navi in legno cosa ti fanno? navi in legno rinforzate ne produci di più se ha senso produrli costruzione militare, navale estensiva abbiamo risolto il problema qui, cosa c'è? è arrivato il grande armatore è arrivato il fine armatore per lei bravo, un'evasore per inizio l'ho sempre detto no, non sono un evasore sono un evaso a limite buonasera secondo me buonasera facciamo ripartire scusate signori cosa c'ha qui? motori perché motori? ah, ferma tutto ferma tutto cosa cazzo sta combinando? no, è l'altro secondo me no, è questo qua no, non possiamo fare le navi per i momenti ma beh, adesso non ha senso ci manca l'acciaio ci manca un po' di roba non possiamo ancora farlo va bene? no, direi che siamo un po' troppo presto ah ah no, non è mia abbiamo scoperto l'oro prendiamo l'oro no, non è roba nostra l'hanno trovato che cazzo ce lo notificano a fare? è perché è un'informazione se ti trovassi l'oro vorresti sbandierarlo in giro e ti va a dire stronzo, io c'ho l'oro in realtà sì perché ci va gente è una scelta che ti viene data lo diciamo tutti o ce lo teniamo tutto per noi? ce lo teniamo ma invece che voci del diario ci abbiamo? cosa ci ha riservato? voci del diario 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 religione, autocrazia, nazionalità bellissimo no, io lo propongo le seguenti condizioni devono essere e cambia non credi qui rispetto per un totale di vent'anni mediterraneo, monarchia sì mediterraneo, religione di stato sì in realtà sti cazzi però va bene e mediterraneo è un'autocrazia sì, perfetto per vent'anni ottimo e attiva l'evento nazionalità ufficiale signori e che cosa fa? ma dai porco cane volevo vedere cosa fa? Fioran dice che la Bavaria può unificare la Germania grevissimo è un problema ormai ce l'ha quasi tutta sì basta che basta che asfalta un po' l'Utaringia che non ci vuole tanto la Prussia ma io ve lo dico secondo me la Bavaria riusciremo a metterla a cuccia solo su Europa su Earth of Iron qui qui su Vic 3 la vedo difficilissimo perché il mio sistema di Bellico di Vic 3 è terrificante e vedi che ci segnalano che loro è il nostro ingegnere come è il nostro tu vai su esatto vai in giù in fondo sono in fondo proprio le miniere mi pare le miniere ad oro dica lì no no allora c'è una truffa forse hanno trovato i campi d'oro fa vedere e c'è scritto non disponibili 1 perché non disponibili 1 cosa vuol dire no non ci sono i campi d'oro no no l'oro è giusto non è la roba nostra non è la roba nostra torna su l'oro un attimo c'è scritto campi non disponibili 1 picca dove su l'oro l'oro quello che hai cliccato prima per vedere l'oro clic clic opzioni non disponibili non è che possiamo costruirla invece lima mediterraneo ah in lima lima vai in peru vernici perché non c'è gli utensili forse non lo so in peru dove lo sta cercando il peru signor vernici è in peru c'è un'icona anche se ci vai è lì è la è la bravo la 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 zoom mamma figa quella quella ha la capacità di così di venire d'oro perché non lo costruisci cliccaci faccia di merda perché non è nostro è incorporato ma non è nostro cosa sta guardando il peru ma perché ma perché lo obbio dici che posso costruirlo in casa me ne frega perché ce ne abbiamo un pezzettino ce ne abbiamo un pezzettino ne abbiamo un pezzo ecco ho risolto avete visto che ci saranno più università perché avete visto come discutiamo noi sono d'accordo ho detto ho cazzotti discutiamo veramente ci sono stati scammati i vernizi che ci sta là ah ah incredibile lei si è un truffato da vannamarchi dica la verità due volte lo ammetto perché pensavo che la prima volta era difettoso quindi io ho chiesto se me ne andavo un blocco di sale lì sul comodino la rampata di sale allora quanto ci mette scusate adesso andiamo un attimo a 5 mi sto rompendo un attimo voi come crollano i soldi mentre andiamo a 5 ottimo ma si ma siamo tranquillissimi state buoni guardate guardate state buoni guarda come si fa subito sto venerdì nero mamma mia mamma mia se sul tuo conto vedessi quei numeri vedrai che è tranquillo ragazzi attività abbiamo 2 milioni e mezzo da parte buttiamoli bravo bella idea e possiamo andibitarci fino a 9 milioni all'Andalusica ha cominciato a danneggiare le azioni ma io le sto migliorando quindi ci compensiamo ma l'Andalusica in realtà 40 anni in Tokyo state dice non conosci Sud America eba come sai te com'è fatto Sud America qua adesso ma il Peru è Perù cioè se mi dici è l'Honduras qui no qui messaggio messaggio ma portati ma se vai a 5 Mona vai a 10.000 non sei minimamente in grado skillato per andare a 5 vado a 4 andiamo a 3 chi era poi comunque mi sa che era Kiev Kiev sì cioè perché ti è arrivato il diplomatico di Kiev e lei ha detto ah arrivo subito e si è dimenticato sto vai morto dieci anni dopo mi sa che voleva fare un'alleanza Kiev fatto difensivo anche io ho visto uno speciale di Vandamarki su Netflix l'ho visto anch'io ce l'abbiamo fatta c'era un vernici che diceva eh lo so però era scurato ce l'abbiamo fatto difensivo l'alleanza forse no era il patto difensivo l'impero messicano accetterebbe l'alleanza beh giustamente l'abbiamo creato di noi quanto ci costa? 2 vento quanti soldati è troppo lontano è troppo lontano ma che cultura è sudista ma che cazzo di cultura è l'impero messicano che cultura è suddista niente l'esportazione da una partita all'altra regalano veramente delle gioie lei si fa troppe domande lei si fa sempre troppe domande ah bene bene vedo che i miei amati il mio amato settore privato lavora quarta di che bravi costruite stanno facendo fabbriche di armi ferro ad algeri caffè e tè devo dire sempre sempre industrie che provocano poco dolore nella vita dell'uomo stanno costruendo fabbriche di sedie a martelli bravo bravo no no loro martellano con le ginocchia dei poveri criminali di guerra no ci manca tutto guarda qua c'è quell'icona che te lo ricorda in maniera adesso ci mancano adesso ci mancano le navi ci manca solo quello in realtà se guardi al mercato allora se abbiamo un surplus di grano ordini per prezzo ordini per prezzo così vediamo cos'è che costa un botto il caffè nell'impero costa un botto i mobili di lusso costano un botto ma il caffè chi se ne stracciava scusi chi se ne stracciava il popolo usa il caffè vai a vedere che li sono i beni di lusso buono questo li sono i beni di lusso ma a testa è buono i beni di lusso importiamo pure abiti di lusso che l'altro giorno per farmi un cazzo di abito spettacolare di Dio importiamo ma solo 5 se ti vesti come platinete è un problema solo 5 non importo il popolo inizia a lavorare alle 12 perché non ha un caffè libero al mattino una promozione dovuta chiedono chiedono diaz c'è il nome no no non faremo forse una nuova diaz tra tanti il punto che andava contro i poteri proprietari terrieri ma diaz proprio non promette un granché bene ma perché non stiamo proprio producendo la vita guerra fai vedere perché vedi che signor signor fracca o mona no è solo lei che tocca prima ce l'ha scritto avremmi scrittato meglio di lei quando clicca volontariamente intanto il tenore di vita si alza grazie alle politiche il tenore di vita nell'impero è in difficoltà come vernici ma come tutti gli altri adesso è diventato giusto però il mio processo di alfabetizzazione a proposito abbiamo da fare un'altra politica bravo scuola non possiamo andare religiosa per forza e questo è l'unico che c'è vabbè il sindacato sostiene quindi sosteniamo lui mi dice guarda che siamo in una situazione politica ridicola I don't care non mi importa andiamo avanti perché adesso se vedete questo deficit è perché c'è l'evasione c'è l'evasione fiscale non penso non penso si abbiamo conquistato tutte le isolette nei Caraibi la gente giustamente va là a portare il grano è ovvio non pagano le tasche a Palermo ma sono solo il costo di grano quindi possono anche andare ma quanto ci stanno sopra? intanto Ming è settimo ma è tipo più forte in tutto in tutto il mondo allora vediamo prestigio malissimo Pil malissimo ma il prestigio è conseguenziale degli altri fattori in realtà no ma lei adesso deve farmi subito le spedizioni nel Niger scoperta della foce del Nilo è tutto nostro cazzo scopriamo noi la foce del Nilo è tutta roba nostra decisione mi dice perdono i soldi i nostri e poi muoiono di fame i contadini intanto rileviamo le spuizioni mille 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 no forse è un po' troppo presto senta ma ti posso dare un'altra buona idea ma perché non inizia a fare gli scabelli come diceva il signor Beck da lui è uno scabello almeno la gente si chiede per miserare la mia miseria oltre a far morire la gente di fame e di sete perché ha tassato gli alcolici come ricorda il nostro amico ma almeno gli faccio star seduti gli regali un cannone produzione di mobili di lusso vada proprio di lusso sì sì di lusso lusso è pericolo che li spacchino perché gli alcolici costano troppo non si ubriacano ah questa è ottima ah quindi stiamo producendo anche gli esplosivi bene abbiamo già tre acciaierie ah ce l'abbiamo quindi l'acciaio e infatti sono non lo stiamo usando da nessuna parte è un mercato che va bene adesso vanno bene vai tranquillo non lo stiamo usando da nessuna parte giustamente è stato florido quello dell'acciaio neanche ah manca lo zulfo abbiamo la Sicilia costruisca come un cane adesso prima dobbiamo fare questi di amministrazione poi faremo qua lascia fare lascia fare guarda visto visto il fine economista visto il fine economista sì ma è più 500 euro c'è una girata a finire se vuoi offrire una pizza per un pezzo tutto nuovo lasciate fare lasciate fare lascia di pizza ce la devo offrire sì intanto noto con piacere che i 408 mila stanno salendo lì come si chiamano sì i ribelli i maledetti non sono ribelli sono i radicali i radicali i radicali guarda la scaletta tra l'altro sai hai visto un giorno al mese si incazzano i sociali ma i lealisti i lealisti dov'è che si stanno incazzando sicuramente nelle colonie figure no poi questo bel pannello davanti alla mappa che mi permette di vedere un cazzo è nervoso no è una cosa diffusa una cosa diffusa estirperemo questi radicali questi radicali 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 radical ship ma che cosa vogliono i latifondisti ripristino nella legge nessuna polizia ma perché cazzo ma lì gli vanno a chiedere lo scontrino gli vanno a chiedere posso dire che comunque siamo un impero illuminato abbiamo mezza africa e non siamo manco degli schiavisti possiamo dirlo siamo bravissimi siamo di una tradura perché la tentazione è fortissima no no guarda non conviene non conviene però dico non è passata ad un colpo però ad avere tutta l'africa e non essere schiavistici è proprio la tentazione del sovrano là è proprio perché già ci stiamo espandendo comunque a mia mano la stiamo prendendo anche la zona libera come quinti al mondo quinti in ming baviera bengala ashmer perché noi signor per le cilere io voglio le sue dimissioni la prima e seconda la differenza io sei cilese il 156 milioni vabbè ma sono anche scusa mi ha portato pazienza ah guarda mercato ming guarda tutti i zappatori in questo momento guarda che congiore allora a proposito facciamo un giocchietti diplomatici ecco unione doganale prima c'è gli annunci perciò unione doganale successo allora sappiamo la lotta nessuno vuole entrare perché non vogliono entrare entra nella mia panza lotta ninja è il primo obiettivo in realtà perché in ottica accerchiatore è l'ideale quindi dobbiamo fare un lavoro con la lotta di tarincia di tarincia ah io non ci stavo a fare lavorare stiamo già stiamo già espandendo in africa col colonia si si stiamo già facendo stiamo già costruendo facendo tante colonie piccoline e che ci costringeranno costringeranno ad andare a gioco l'esercito tra un po' posso fare un accordo commerciale ah si no perché non me l'accetta non te l'accetta non vuole lì sei sul cazzo vabbè cominciamo con il gerusalemme ti concedo un'obbligazione no no scusi non ho capito no no esatto eh ho capito non la fottrò mai dichiariamo guardare il mondo vieni se brilato no ma cosa ti conviene mettiti l'obbligazione ma perché è una questione di creare il mercato cioè noi dobbiamo puntare a formare il grande mercato mediterraneo accettavo anche senza obbligazione no mediterraneo gerusalemme no la spagna e messico sì e allora messico infatti ce l'andiamo a prendere subito azioni diplomatiche accordo commerciale qualunque cosa è no messico generale ok no non si è ancora mi piace sentirsi obbligato oh signor bellissimo faccia cazzate con obbligazione a gerusalemme e questi stanno quattro straccioni e due cammelli e ci trascinano in guerre di merda in somalia ma in realtà credo che non abbiamo troppo guarda visto non è servito adesso visto che è bastato un fine economismo perché un colpo di vento è bastato basta dirgli che sono dei cambellari se la sono presa ma come l'avrei fissato ma l'avrei fissato come siete stupidi va bene aspettiamo un po' non hai approfitto del momento giusto non c'è creduto abbastanza e gli hai detto si da un attimo ti rispondo e basta no la francia ci serve in chiave antri bavarese ma poi che cazzo vuol dire rivalità la francia accetterà che c'è da accettarla rivalità che cazzo intanto l'africa australe hanno incominciato la compagnia della gran bretagna dell'africa australe qual è l'africa australe scusami l'africa australe immagino quella verso australia ma intanto intanto il basso l'africa giù la no porca di quella puttana l'africa quello dove c'è quella formalizzata di gnu oh vabbè io così non ce la faccio ma vuole cambiare mappa ma che problemi ha io ho visto l'intenzione infame noi siamo il blu eccolo qua il basso l'ipopo grande compagnia mediterraneo dell'africa australe vedi rida che cazzo rida che come cazzo si chiama questo lorenzo eh ritorni là sullo stato quello quello là lorenzo marques ma chi cazzo è ma chi cazzo è transval guarda il filo economismo allora sì il filo economismo è il momento di industrializzarci mandiamo i bambini in maniera di carbone e ferro ma lei è un criminale di guerra signor Lolang eh beh in realtà lo stiamo facendo lei vota benissimo lo stiamo facendo ma lavoro minero io ho consentito no no dobbiamo cambiarla è così io li vorrei mandare a scuola ma non possiamo ancora cioè abbiamo messo le scuole religiose eh no non ancora per me deve ancora passare ma poi comunque c'è da fare per poter fare eh lavoro eh scuola obbligatoria servono i diritti umani vabbè ma già limitarlo prova ad andare limitato cosa ti serve? è limitato beh in realtà dovrebbe passare abbastanza facilmente chi è che lo vorrebbe far passare? tutti tutti i italiani industriali tutti i italiani industriali tutti scuole religiose quindi dopo le scuole dopo le scuole potresti farlo allora reddito delle persone a carico più 15% questa è un'ottima cosa investimento massimo di istruzione più 1 ok e la mortalità sono tre cose che a me fanno molto piacere giustamente se gli insegnano che il fuoco fa male mi ha avuto di venire trovo dei dati ma come l'olanga non ho capito chi è il tuo lato in lover preferito? Vennizi? cioè quello che tu dici ah ah ok ragazzi ogni manovra ogni manovra politica che fa questo carrozzone imperiale crea un quadriere di burocrazia sai che io sarei tentato finita questa tecnologia qua piuttosto che fare il socialismo sì anch'io direttamente documenti di identità aspetta infatti abbiamo già archivio centrale ma i nostri centri burocratici lavorano anche banca centrale mi sembra che ti da vedere vedi che sono già sono già archivi centrali sono già di livello 3 eppure stiamo così e la madonna e la madonna verniciè sulla ricerca? ahia meno 10.000 su quello della banca ma perché la gente va con la banca centrale vai su la banca riduce aumentare il tasso di interesse comunque in che teoria si potrebbe passare da sola quindi non serve fondi comuni interessante allora risparmi postale potrebbe essere interessante no perché lei è un pensionato di merda la gente deve investire deve spendere deve fare economia eh no da fatturare quello movimento operaio mi sembra che ti dava dei bonus seri no movimento operaio è una merda anche quello ci dà grandissimo purtroppo anche se non lo facciamo lo faremo in automatico esatto non puoi scappare non puoi arrivare da solo eh noi dovremmo andare qui vabbè intanto andiamo avanti col tempo qua che ma si ma a fretta anche forze armate ci sarà un omino ci sarà un omino di cultura mediterranea che si chiama Vladimiro Lenino che verrà a rompere i coglioni a un certo punto esercito ah il lover preferito era Lorenzo o la mummeca oh queste ferrovie dai su dai importiamo un po' di cinesi per costruire delle ferrovie in Calabria si può fare eh lei no ma guarda ora ora in transvallo quello lì è nostro vada a 5 non vada a 5 svallo è nostro si può ricorrere vada a 4 perché deve andare a 5 perché 3 è lento e vada a 4 perché in un'ora abbiamo fatto solo due anni cioè c'è 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 allora qui qui è brutta perché se andiamo avanti di questo passo facciamo una legislatura a live ah facciamo una legislatura cioè 5 anni 7 che leggiamo il nuovo Presidente della Repubblica e poi chiudiamo la live cioè Vernizzi vai vai in giù Vernizzi vai in Africa sta buona un attimo allora dobbiamo scegliere dobbiamo scegliere vai facciamo il processo becco bunzer qua cosa fa questo qua lavorazione dell'acciaio ha messo il vetro ormai mettilo no non lo ho messo il vetro in alcun modo io l'avevo sentito non lo ho messo per l'acciaio però ci serve più acciaio ci serve più acciaio mio signore andiamo allora di questo tipo Vernizzi vai a vedere se ti hanno sbloccato una miniera d'oro in Transval e lo vedo da qua edo che è in tutti i geografici continuiamo a cercare miniere d'oro che non esistono finché non me lo sblocca qua non lo posso farlo allora vai avanti stavo andando avanti ma voi cosa ne capite di fine economismo poi guarda guarda come cresce non ci abbiamo niente da capire lo scantolo di un tegolo madonna è questo qui vai 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 Gaetano Ercovani brutto pervertito vai scondete i bambini sputtanalo vai 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 io sono la frangia aristocratica anticlericalista ah bene ecco la prova allora adesso costruzione dobbiamo però per forza a questo punto imporre una produzione ti costruisco qua cosa sta costruendo e anche qua cosa sta costruendo ah le motoristiche è un po' a caso ovunque si quindi il Lazio e l'Emilia saranno i nostri fiori all'occhiello della produzione motoristica no però intanto li facciamo qua come no incredibile sì ma non buttarle su dopo saremo famosi per il prosciutto fritto non ce l'abbiamo ancora Parma oh sì c'è Parma dove c'è Parma sì qui Parma guarda non ce l'abbiamo ancora ci hanno perso milioni di uomini a Parma a Parma esatto c'è stata una guerra terribile ha falciato sette generazioni per tenersi Parma ho rimosso queste tutte le cose allora alta tensione quelle cattive guerre anche azioni qui scoppieranno i inattivi che ci prenderanno allora qui abbiamo questa rotta che è inattiva cosa? perché perdiamo toldi togliamole tipo costose rotte improduttive guarda quanto c'è la nostra regioni isolate bisogna fare un po' di porti ah qui abbiamo ah qui abbiamo dei fini economisti formosi eccoci presenti dei fini dei fini evasori comunisti tac tac comunisti tac ah un tocco chiamogli la guardia di finanza adesso prima finiamo questi qua e poi dopo pam metto a costruire di nuovo le le come si chiama io voglio voglio concludere l'epopea con Albano che adesso si chiama Epiro in maniera degna devastagli la vita ma poveretto poveretti poveretti non può fare niente neanche le sedie ma la gente si è abituata a gli end conquista quel buffone ma di far l'altro supremazio o l'altro un dominio ma che che non voglio un dominio voglio la totale ammissione ah ma troppo ci odiano tutti tutti qua per l'epiro quanto malus si prende adesso vediamo vediamo se non entra la baviera con l'oro 15 di infamia ci prendiamo non è poco eh no no aspetta 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 è troppo aspettiamo un attimo aspettiamo un attimo e se faccio è stato fantoccio sono 10 e abbiamo il canato che si schiererebbe con noi l'epiro rimarrebbe da solo secco a cannone la baviera rompe i coglioni secco a cannone secco a cannone se non è il coglione se entra usciamo e lasciamo perdere usciamo dal gioco e che abbiamo fatto va bene va bene va bene tanto movito lui guarda 41 gatti ha movito la flotta è già pronta prima ci mancavano i fucili immagino ah non serve neanche lo sbarco provo a vedere clicca vediamo la situazione la situation al momento non si è ancora messo nessuno nelle palle vuole mandare il generale sul fronte infatti 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 lei clicca a casa ma tra l'altro sei un pacifista ma noi stiamo mandando un generale in guerra ma è pacifista ma che cazzo di truffa è piante però un uomo del cibo bellissimo lui fa la guerra ma lo fa perché deve portare a casa la pagnotta cioè non è che lo fa perché gli piace non si alza la mattina odio questo lavoro nessuno si insinua infatti neanche una Gran Bretagna si insinua bene bene molto bene non ando eh facciamo tornare facciamo tornare quello che era nostro in pancia no che rinuncia ma sono pronto nel caso in cui è stata la paviera perché sono bastardi entrando all'ultimissimo l'ultimo è un'altra che è un'altra